Dopo il trofeo podistico Città di Giarre-Santisidoro Agricola, il cartellone Giarre-Eventi d'estate 2017 continua con 1-2-3 Volley Torneo Giovanile. Ieri Piazza Duomo si è trasformata per l'occasione in un grande campo di beach volley. L'associazione sportiva dilettantistica Volley Papiro Giarre ha portato la spiaggia nel centro storico giarrese per un torneo giovanile 2x2 maschile di beach volley che ha attirato un vasto pubblico. Otto coppie di atleti dell'Interland, Ionico e Teneo, si sono cimentate in un torneo ad eliminazione diretta e hanno dato il via ad una vincente serata di sport che ha avuto il suo momento più emozionante nell'esibizione delle vecchie glorie del Volley Giarre. Oggi inizia la piccola attività perché la vera attività sarà il fine settimana di sabato e domenica con la prima tappa del Pro Tour 2017 WVBF. Ma nel frattempo insieme alla cittadina di Giarre abbiamo pensato di far giocare quelli che sono la risorsa sportiva di Giarre e dintorni. Quindi oggi organizzando con una società qui di Giarre stanno giocando degli under 16 e 19 che soffriranno di un campo che comunque non si vede dappertutto perché il vicevole è visto più come un'attività da spiaggia e meno da piazza. Ma siamo qui tornati dopo un paio di anni, il famoso 2009-2010, sempre in memoria del figlio del signor Grasso, quindi in memoria di questo ragazzo. E grazie alla WVBF e al nostro nuovo presidente Vittorio Silvestri sta nascendo un qualcosa che speriamo negli anni venga riconfermata. Come si svolgerà il torneo? Il torneo internazionale partirà venerdì mattina dalle 9, saranno partite ad oltranza fino alle 23, con una piccola pausa a pranzo. Si affronteranno 12 coppie femminili e 12 coppie maschili che verranno da tutto il mondo, dall'Argentina al Brasile, dalla Germania al Portogallo, dai paesi arabi all'Argentina, ci sarà il Cile, una coppia greca, dovrebbe esserci, tranne se non avrà in toppi perché comunque è impegnata nei suoi campionati una nostra giocatrice italiana, Greta Ciccolari, che forse per motivi personali, nel senso legati ad altri contratti, potrebbe anche non esserci. Ma purtroppo questo sappiamo, i campioni sono sempre quelli che si fanno attendere. Ma nonostante questo abbiamo un ottimo livello perché verranno 4 coppie brasiliane che fanno il circuito brasiliano e anche 3-4 coppie americane che attualmente fanno l'AVP.